ma no un attimo un attimo vi leggo subito no ma rendami ora grazie mille El Di Sommero per la Sabo Colprime terzo mese bentornati El Di Sommero gentilissimi e bentornato Marcello con la Sabo Colprime secondo mese per Marcello gentilissimi e bentornati la paneggia proprio lui il più critico